Il campo sportivo di Ponte Nure ospiterà da venerdì 28 giugno a lunedì 1 luglio la festa provinciale di rifondazione comunista. Accanto ai tradizionali stand gastronomici troveranno ovviamente spazio anche gli immancabili dibattiti politici. Si parte la prima sera con La Sinistra riparte dall'Europa, mentre sabato 29 verrà ricordata la figura di Don Gallo, recentemente scomparso. Domenica 30 giugno incontro con Vittorio Agnoletto, mentre per la giornata di chiusura doppio appuntamento. Alle 19 il confronto sulla pubblicizzazione dell'acqua e alle 21 l'intervento del segretario nazionale del PRC Paolo Ferrero sul tema Unire la Sinistra per Cambiare il Paese. Davidsanti e Marco Cino hanno presentato la manifestazione, che ogni sera sarà accompagnata da esibizioni di gruppi musicali, dal rock ai balli latini. Questa è la prima festa provinciale del partito che facciamo non a caso a Ponte Nure, un circolo che ha dato tanto al nostro partito e alla sinistra in genere. Lo facciamo con una festa ricca di contenuti che appunto per potersi qualificare provinciale deve riuscire a parlare a tutte le anime della sinistra. Noi dal nostro punto di vista siamo sempre pronti a rimarcare quelli che sono i nostri temi per cui la gente ci ha eletto e per cui la gente ci ha affidato il compito di difendere questi temi. Grazie. 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 Grazie.